Quali sono le tue prime impressioni quando sei arrivato qua a Monzello? Grazie del benvenuto, sinceramente è un centro sportivo molto bello, vedo che questo qua è un progetto importante, si vede anche dalle strutture e soprattutto anche dall'ambiente, dal gruppo e dalla gente che lavora qua. Qual è stata la prima cosa che ti ha detto Adriano Gagliani quando ti ha acquistato? La prima cosa che mi ha detto è che mi ha fatto capire il progetto che c'è qua, l'idea che hanno loro, quindi io ho subito accettato di esposare questo progetto e adesso bisogna lavorare per raggiungere gli obiettivi. Per te quindi non è stato un problema scendere di categoria dalla serie B alla serie C per poi provare comunque a riconquistare la B e poi chissà, magari anche la A? A volte nella vita devi fare delle scelte, io ho avuto questa chance e ho deciso di sposare questo progetto senza guardare categorie perché alla fine poi il tempo dirà se è stata una scelta giusta o una scelta sbagliata. Mezzala o trequartista, qual è il tuo ruolo preferito? Io posso fare tutti i ruoli del centrocampo, quest'ultimo anno sono stato più abituato a fare il trequartista ma posso fare anche la mezzala. Hai già scelto il numero della maglia? Penso di scegliere in questi momenti. A breve momenti.